Sono stati oltre 200 i rappresentanti del mondo della politica, dell'economia ma anche della diocesi altoatesina che oggi hanno preso parte al convegno organizzato a Bolzano per celebrare i 125 anni delle casse Raiffeisen in Alto Adige, federazione che riunisce 47 istituti di credito cooperativo per un totale di 196 filiali e 59.000 soci. La quota di mercato coperta sia per quanto riguarda la raccolta come gli impieghi su ora il 50%. Un modello che ha patito solo marginalmente la crisi. Credo che noi ci siamo sempre dedicati al nostro territorio e non abbiamo affatto un'espansione oltre perché chiaramente conquistando nuovi territori, un nuovo business bisogna avere anche la struttura e le conoscenze. Quindi questo credo sia stato un elemento molto importante ma più importante ancora che noi abbiamo sempre mantenuto il principio di essere una banca che finanzia l'economia reale. Nel corso dei vari interventi è stata ribadita più riprese la bontà di un modello che appare ideale per la realtà economica altoatesina. Ma direi che proprio per l'Alto Alice è il modello ideale perché abbiamo un'economia strutturata con dimensioni molto limitate cioè abbiamo delle imprese che hanno non più di tre dipendenti come media per quello bisogna mettersi insieme per organizzare servizi per le imprese e questo riesce col modello della cooperativa. Nel 1889 la prima cassa Raiffeisen avviava la propria attività a Rina in Valbadia. 125 anni di storia, ha detto il presidente della federazione Raiffeisen, Heiner Nicolussi Leck, contraddistinti sempre dalla medesima filosofia e morale. I valori fondanti sono la solidarietà, la sussidiarietà, l'autoaiuto, l'autogoverno e l'autoresponsabilità. Questi principi valgono tuttora da quando Friedrich Wilhelm Raiffeisen 150 anni fa ha costituito la prima banca cassa Raiffeisen e da 125 anni, da quando qui in provincia, è stata costituita la prima cassa Raiffeisen, allora chiamata Spar und Allings Kassenverein. In sala anche il vescovo della diocesi di Bolzano, Bressanone, Ivo Muser, che ha voluto sottolineare l'importanza dell'etica che contraddistingue il nodo del credito cooperativo nell'economia moderna.